Vincere contro la Sampdoria che comunque è una squadra che sta facendo molto bene abbiamo fatto un bellissimo primo tempo, poi al secondo tempo giustamente perché eravamo in 10 non potevamo far altro che difendersi però la scuola ha risposto bene, ha dato un segnale anche dopo una partita vinta a Verona ma non giocano benissimo, ma oggi grande prestazione di tutti Buona prestazione anche la tua? Sì sì ci voleva, ci contevo tanto e da tanto che lo aspettavo però io mi sono sempre allenato, ho sempre aspettato il mio momento e sono contento per quello